Allora Ale, guarda, faccio vedere l'esperimento magnético, guarda come si sta, guarda così, ti concentri con la forza del pensiero, fai vedere, guarda, fai vedere la mano, fai vedere, no, no, ti icacELIPE, guarda, fai vedere, no, 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 segue, non la rende, Vajeli, non la rende, entrambe, vai vedere, allora, guarda, guarda così, non sei magnetico tu Ale guarda là guarda com'è magnetico devi far concentrare in pace basta così